Benvenuti alla dobbiane in questo nuovo imposto che abbiamo chiamato Vivi Nicolli, prendendo questo titolo da un libro fotografico che abbiamo chiamato nel nostro colline e per un senso di una manifestazione alla dobbia che si era persa. Per presentare la notizia di 2012, per notare questa notizia, accompagnata dai figuranti della Dama Castellana di Pescioli. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.